Che tempo farà in questo 2010? Una bellissima domanda e anche difficile. Possono rispondere le cipolle di Urbagna che in questa notte hanno finalmente parlato, grazie naturalmente alla loro interprete, la signora Emanuela Forlini. Il risponso c'è già. Allora, diamo un'anticipazione di quello che è il 2010 per le condizioni meteorologiche. Il 2010 dice che innanzitutto non sarà un anno ricco di precipitazioni. L'inverno continuerà ancora ad essere freddo, congelate, brinate, però le precipitazioni, anche a carattere nevoso, saranno un po' incostanti ed episodiche. Quindi la primavera, invece dopo questo inverno che è stato assai rigido e continuerà ad esserlo, si annuncia abbastanza mite e serena. Mentre invece l'estate sarà molto bella, calda, soprattutto nel mese di agosto, anche se non mancheranno giornate offuscate da dei forti tassi di umidità. L'autunno sarà un autunno piuttosto anomalo, in quanto la pioggia sarà scarsa, episodica, e quindi non riuscirà ad essere propriamente benefica per tutto quello che porta l'acqua, quindi per le coltivazioni, eccetera. Poi mese per mese abbiamo visto appunto che il gennaio è già passato, freddo, con precipitazioni. Febbraio sarà variabile e incerto, però con più piogge e neve rispetto a gennaio. Quindi dalla neve ancora non siamo usciti? Non siamo ancora usciti, anche se si tratterà più di episodi che vere e proprie nevicate. Marzo avrà scarse piogge, con giornate alternate, con giornate fredde e serene. Aprile invece si presenta come un bel mese, lo stesso si può dire di maggio, anche se avrà qualche giorno di pioggia. Giugno un bel mese, così pure anche luglio, ma con qualche giornata di pioggia. Agosto sarà invece caldo e bel tempo, settembre lo stesso si annuncia un bel mese, mentre invece l'autunno sarà un pochino anomalo, in quanto, come ho detto prima, sarà scarso di pioggia, quindi mese asciutto sia ottobre, novembre, però con giornate nebbiose ed umide, e dicembre sarà rigido e secco, con frequenti gelate. Finalmente dopo vari anni in cui le cipolle predicevano una grande umidità, una grande precipitazione, quest'anno non ci saranno così tante come sembra. Ad esempio nel mese di marzo, che sarà il mese delle elezioni, quest'anno regionali, un mese veramente intenso, di lavoro un po' per tutti, cosa accadrà? Marzo avrà scarse piogge, con giornate alternate con giorni freddi e spesso sereni, quindi non sarà un mese propriamente brutto, ci saranno varie giornate di sereno, anche se ancora fredde. Quest'anno lei mantiene, ha mantenuto ancora la previsione, come si svolge? Ogni anno deve esporre questi spicchi di cipolla? Sì, ogni anno alla notte del 24, espongo questi 12 gusci di cipolla a cosparsi di sale, li espongo ad oriente, e la mattina del 25, che appunto ricorda la conversione di San Paolo, si fa la lettura di ogni singolo guscio, a seconda di come si è sciolto il sale, con la temperatura appunto propria di quella notte. C'è ancora gente interessata a questa previsione? C'è ancora gente interessata, che chiede anche prima ancora che le cipolle siano state fatte, perché è una tradizione che ha un gran riscontro in questa zona, quindi è una tradizione sentita, perché sono molti anni, che sono secoli insomma, che si fa questo metodo, questa tradizione della lettura della cipolla, quindi è molto sentita. Senza che però lei voglia dargli valore scientifico? Assolutamente no, il valore che gli do è quello di tenere viva una tradizione, che se c'è stata per così tanti anni, non vedo perché non si debba continuare a rispettarla. Ci azzeccano le cipolle? Ci azzeccano abbastanza, l'anno scorso, a parte il mese di agosto, che era stato pronunciato come un mese piuttosto variabile, brutto, invece è stato un buon mese, se no per il resto sono state abbastanza veritiere. Grazie. 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 Grazie.